Il senso di essere città in una comunità che voglia essere a misura d'uomo senza stare dentro una sorta di campana di vetro è il tema che è stato al centro dell'omelia del cardinale Giuseppe Betori al Civesco di Firenze nella messa di Natale in Cattedrale Famiglia, ha detto Betori, è anche il carattere che deve assumere ogni comunità umana anche una città con la vita delle persone, soprattutto dei più debili al centro delle preoccupazioni della convivenza civile Si tratta di una prospettiva decisiva per Firenze se vuole restare comunità pur accettando che la bellezza di cui è erede possa essere condivisa anche da altri L'alternativa non è tra una comunità chiusa, una città senza identità ridotta a vetrina del tempo che fu C'è un'altra strada, quella di una Firenze capace, ha detto l'Arcivescovo, di accoglienza proprio perché è pulsante di vita e di rapporti sociali, di lavoro creativo e di umana solidarietà La Chiesa è pronta a continuare a farlo la sua parte Quindi il Cardinale Betori ha sottolineato come di fiducia e speranza abbiamo un profondo bisogno, in specie per ridare forza al nostro desiderio di vita La contemplazione del mistero di Dio per noi e del mistero dell'amore tra noi ci induca infine, ha concluso l'Arcivescovo di Firenze, ha sentimenti di stupore e di gratitudine pur se è difficile in un mondo che vuole tutto programmato e sotto controllo che pretende perfino di piegare la nostra libertà al comando degli algoritmi Grazie a tutti